Abbiamo bisogno di un grande cambiamento, la nostra regione non può rassegnarsi a tornare la cenerentola che è stata per tanto tempo, deve tornare a recuperare un protagonismo, deve tornare a recuperare una capacità di disegnare, immaginare e realizzare un futuro, il futuro che merita. Lo dobbiamo non solo e non tanto ai nostri figli a cui bisogna offrire delle prospettive migliori, ma lo dobbiamo anche a tutti i nostri padri che hanno lavorato per fare in modo che si passasse dall'estere la cenerentola del mezzogiorno ad una regione che ha delle prospettive di agganciare davvero le zone e i territori più avanzati del paese. Noi questo vogliamo, un Abruzzo che torni a correre, un Abruzzo in cui si possa scegliere di tornare a vivere, perché vivere in Abruzzo può diventare un'occasione straordinaria.